Eccoci qua ragazzi bentornati sul canale del Sinoscedi, oggi avanti con il nostro Rout to Glory, mi raccomando rimanete fino alla fine del video perché ho da fare una piccola premessa di nuovo perché molta gente, molte persone di voi ancora non l'hanno capito come fare tantissimi ma tantissimi ma tantissimi GP diciamo in questo mese. Ci sono dei modi che purtroppo molta gente non ha capito quindi ci tengo, adesso ci facciamo le nostre due partite del giorno, andiamo avanti in questa divisione 5, cerchiamo di arrivare alla 4 senza grandi problemi e poi vi spiego tutto nel dettaglio. Vi invito assolutamente ad attivare le notifiche del canale, mi raccomando se no vengo là e vi bastono, vi bastono perché se no vi perdete insomma i caricamenti del video, non vi arrivano le notifiche e in più sto facendo la nuova rubrica, le Shady Peels, quindi parleremo delle vostre squadre, le commenterò, vi manderò dei consigli, mandatemele su Instagram. Non vi dimenticate il video arriverà praticamente ogni lunedì se non ogni diciamo insomma quando ci sono abbastanza richieste, ne stanno arrivando tantissime ragazzi io vi ringrazio e come ho scritto a molte persone vi faccio i miei complimenti perché si sta creando una community bellissima. Sto notando che molti di voi stanno aiutando appunto alle persone che magari hanno qualche problema, che non capiscono qualcosa del gioco e siete tutti, veramente tutti super educati, stupendi, super propositivi, disponibili e io sono il primo veramente a farvi complimenti, cerco di rispondere a tutti, vi prometto che rispondo a tutti, non vi preoccupate. Quindi facciamoci le nostre partite, andiamo in campo e vediamo un po' cosa succede. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati allo stadio con il nostro pullman, la nostra squadra è pronta, è super allenata, l'ho allenata benissimo questa settimana, andiamo a vedere lo schema di gioco dell'avversario. Informazioni, Filippo Inzaghi, Paolo Di Bala, Lainez sulla sinistra, Pugba insieme a Viera come mediani, anzi come centrocampisti centrali, Charadella, MLS se non sbaglio, esterno destro, Mokika, molto interessante come terzino sinistro, non sarebbe neanche male da usare per far crescere, terzino sinistro appunto lui, Campbell, difensore centrale insieme a Bremer, coppia difensiva assurda, Diogo Dalot, molto interessante perché costa anche poco, come terzino destro e Gianluigi Buffon, scelta di cuore. Bella, bella squadra, il nostro Perugia, Torre Clasina si chiama, come allenatore, Sol Bakken, livello stile di gioco 77. Attenzione avvierà perché è un fenomeno ragazzi, beati voi che l'avete trovato. Voglio anche vedere Pugba in campo perché non sono del tutto convinto sulla sua forza in questo gioco, non sono convinto. I passaggi mi piacciono molto ma lo studieremo meglio. Ovviamente ragazzi vi ricordo anche che arriveranno le bellissime recensioni di Tadic e Zaniolo, arriverà anche quella di Nengolan e Cristiano Ronaldo, Max Level. Ovviamente anche Nengolan, Max Level, sia Zaniolo che Nengolan, tutti i Max Level, non è che ve li porto così livello base. E vedremo un po' come vanno il loro voto. Quindi, siamo in partita, si comincia, brividi, raggiungiamo la gloria. Ecco, subito la prima figura di cacca. Non ci credo. Mi segna Pugba? L'ho recuperato. Non è molto veloce, non è molto veloce, meno male. Se mi avesse segnato Pugba avrebbe fatto molto ridere. Ma che fa Nengolan? Si addormenta, ma mi scusi. Ma, ma, cosa è successo? Meno male. Di Bala la butta fuori. I nostri giocatori si sono addormentati, ci sono dei piccoli problemi in difesa. Speriamo che Konami li risolva velocemente, perché così non si può andare avanti, cavolo. Mamma mia, Pugba ha preso la traversa. Comunque mi mangio, mi rimangio tutto, perché sembra molto forte in realtà Pugba, eh. Grande parata, ti prego. Fuori. Stiamo facendo una fatica abnorme. Il nostro avversario è fortissimo. Ok, ragazzi, è finito il primo tempo. Non ho fatto neanche un tiro. Incredibile. Andiamo direttamente al secondo. Rigore, rigore, rigore. La rubiamo, anche questa, ragazzi. Chi mi conosce lo sa. Chi mi conosce lo sa. Stiamo giocando delle partite veramente di cacca. Veramente di cacca. Ho paura che adesso lui possa uscire dalla partita e mi dispiacerebbe. Anche perché, non lo so, stavamo messi abbastanza bene per rubarla. Mi dispiacerebbe. Però è incredibile. Sto giocando male e alla fine è infatti uscito dal gioco. No, non è vero, non è vero. Ragazzi, la faccio, la faccio. Lo faccio, lo faccio. L'ho fatto un'altra volta. Il cucchiaio di Francisco Totti. Immeritatissima, immeritatissima. Lo dico senza problemi. Lo sapete, sono sempre super onesto. Specialmente con i miei avversari super fair play, ma siamo avanti noi per adesso. Immeritato, immeritato. No. Morisci che... Buttalo giù. Grande parata. Che cosa succede? Aiuto! Attenzione qui, eh. Che questo ce la mette dentro. Meno male. Meno male, all'ottantatresimo. Rischiamo di rubare questa partita. Ronaldo! Ah, se l'è mangiato. Un minuto di recupero. Cavolo. Dobbiamo fare fallo. Grande, Ronaldo! Di sacrificio! Mi fai provare i brividi, Ronaldo. E vinciamo! Mi dispiace tantissimo per il nostro avversario. Non se lo meritava, non se lo meritava, ragazzi. Poverino. Andiamo alla seconda partita del giorno. Tre punti portati a casa. L'importante è quello. Eccoci qua. Siamo nei tunnel di gioco. Giochiamo fuori casa. Vediamo la formazione dell'avversario. Con Kirian Montoya in panchina. Allora. Dusan Vlaovic e Rafaelao come punte. Zaniolo trequartista. Bellingham, Guardiola, Xavi. Madonna che c'entro campo, signori. Mamma mia. Alexander Arnold, terzino destro. Domingos, Duarte, 83. DC. Lisandro Martinez, DC, 84. João Cancelo ha messo terzino sinistro. Può essere un po' rischioso. E Te Stegen ha messo portiere, ovviamente. 88 di overall. È una squadra completa, completissima. A livello stile di gioco, 99. Quindi tanta roba, ragazzi. È superiore a noi praticamente in tutto. E Leao punta. Voglio vedere come si comporta Leao punta. Rischio d'inizio. È il momento di prenderci altri punti, magari. Bella. Il gol di Romario. Romarietto. Eccolo qui. Il gol. Adesso si scambiano bacino e lui è Zaniolo. Grande Romarietto. Ma che fa il portiere? Meno male Timber. No. Attenzione. Grande portierone. Ma com'è possibile che la ripresa? Via sta palla. Via sta boccia. Sparicchia. Sparicchia questa tavola. Eh, questo è il gol. Questo è il gol. Ci ha segnato. Uno a uno. Giusto così. Lui difende molto bene. È molto bravo a difendere. Romario. 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 Credevo fosse fuori gioco, invece no. Mamma mia. Ecco, adesso fa l'amore con la bandierina. Romarietto. La doppietta. Eh, questo è il gol di Vlaovic. 2 a 2. 2 a 2. Molto combattuta. Uh, peccato. La bomba di Ningolan. Ronaldo il palo. Oh, mamma mia. Per sforzarmi, per dire Ronaldo. Mi sa che ho fatto una sgommata nelle mutande. Bravo. Vai Bruno. Di rapina. Bruno Fernandes. Al sessantacinquesimo. Brunello da Montalcino. Vi ricordo che c'è la recensione di questo giocatore sul canale. La prima recensione in assoluto. Grande Brunello. Tadic. Anche Tadic ha penetrato al posto di Nicolo Zaniolo. Il gol. Il gol di Dusan Tadic. Arriverà anche la sua review. E dai che è finita. Ci siamo quasi. E finisce qui, ragazzi. 4 a 2. 6 punti per noi oggi. Tanta roba, tanta roba. Adesso andiamo a vedere ciò che vi avevo accennato. a inizio video. Quindi vi farò vedere come fare questi GP. Tanti, tanti, tanti GP. Ve l'avevo già fatto vedere ma molta gente ancora non ha capito. Quindi ripetiamo un'altra volta. Ok, eccoci. Siamo sulla schermata dell'opening campaign. Rientriamo nei dettagli così vi spiego bene. Come avete visto ci sono due eventi Spanish League. Una nella zona, nella modalità, Dream Team. E una nella partita autentica. Voi per sbloccare questi 40.000 GP e 1.000 esperienza per 6 dovete giocare l'evento, solo l'evento Spanish League del 21 aprile. È iniziato il 21 aprile e finirà il 28. Quindi il 28 entrerà all'evento della Ligan e da lì farete quello della Ligan. Gli altri eventi servono semplicemente per fare quei pochi GP, insomma quei 10.000 GP a sfida completata. Invece la Spanish League oltre a dare quei 30.000 GP, vi dà anche dopo il 28 aprile 40.000 GP. E quella che prenderà il posto della Spanish League, ripeto, in partita autentica, non in Dream Team, ovvero la Ligan, prenderà appunto, completandola prenderete 40.000 GP. E così facendo, dopo la Ligan arriverà il 12, che inizierà il 5 maggio la Ligan, il 12 maggio arriverà la English League. Quindi dopo la English League farete la Serie A Team e in questi eventi guadagnerete ciascuno, quindi 40.000 per 4 GP. Ragazzi, sono un sacco di soldi. Ragazzi, mi sono fatto un piccolo calcolo insieme a tutte queste sfide che andrete a completare. Sono tre sfide per ogni evento che danno 10.000 crediti. In totale, alla fine di questi eventi, dopo la Serie A Team, avrete un totale di 280.000 GP, ragazzi. Entro il 23 maggio avremo tutti 280.000 GP, quindi mi raccomando, queste sfide evento si troveranno in partita autentica, non nella sezione Dream Team. Quindi, dopo questa filippica che vi ho fatto di spiegone riassuntivo un po' per chiarirvi le idee, possiamo lasciarci qua e ci vediamo nel prossimo episodio che arriverà appunto domani. O alle 12, o alle 14, o alle 16. Vi faccio sapere o qua sul canale nella sezione Community oppure su Instagram. Mi raccomando, ragazzi, seguitemi anche lì perché là vi arrivano tutte le informazioni relative al canale e anche sul quando carico i video, ovviamente. Oltre a, se no potete semplicemente attivare le notifiche e avete risolto il problema, le notifiche di YouTube. Quindi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi, vi voglio tanto bene, siete bellissimi, incredibili. Ciao ciao!